Ci portiamo a casa una buona prestazione. Prova importante dell'Aquila, forse il Perugia ha avuto un po' più di possesso palla ma tu in grosso Pedrelli dalla mano lì dietro avete fatto una partita strepitosa se non per due episodi nati da due errori individuali, ma insomma ci può stare. Grazie, secondo me la difesa è tutta la squadra perché ci siamo messi bene dietro la linea della palla abbiamo tatticamente messi in campo bene, abbiamo dato il massimo. Secondo me il secondo tempo ho visto Perugia un pochino più sulle gambe e lì pensavo che in un modo o nell'altro riuscissimo ad andare in vantaggio al di là del rigore, però comunque ci vedevo meglio in campo. L'ultima Zaffagnini perché Di Nicola ti ha voluto fortemente quest'estate ti si sta coccolando, ha detto ai nostri microfoni Zaffagnini e il contratto con noi non ce lo tocca nessuno ma Zaffagnini sta guardando anche qualcosa di categoria superiore? No, questo sarebbe un sogno, però all'Aquila si sta bene, si vive bene, si gioca bene è una bella piazza e comunque mi hanno voluto quest'estate ci mancherebbe altro, qua si sta bene.